Liberi con Lettieri Sindaco Liberi con Lettieri Sindaco Questa è il nome della lista civica del candidato a sindaco di Napoli Gianni Lettieri La lista è stata presentata presso la sede del comitato elettorale che fu di Antonio Bassolino La scelta del nome, dice Lettieri, richiama la libertà dalle logiche partitiche, dai compromessi e da qualsiasi condizionamento Vogliamo una città meno faticosa, una città meravigliosa che è quella che è Dobbiamo renderla più fruibile, meno faticosa In modo che i napoletani venga di nuovo la voglia e la passione, specialmente ai giovani, di rimanere in città e di stare in città Il primo obiettivo è quello di creare lavoro, specialmente per i giovani Nei famosi 72 punti, l'ho già detto, c'è una banca per il microcredito Per sostenere le piccole e piccolissime imprese, per sostenere gli spin-off universitari E per sostenere i giovani a intraprendere una nuova attività Vedete, i nostri ragazzi purtroppo sono cresciuti con la mentalità del posto fisso Perché c'è stata assistenza anziché creare sviluppo Bisogna cambiare la mentalità ai nostri ragazzi e fargli venire la passione di fare imprese Abbiamo bisogno di più imprese Al nord c'è un'impresa ogni 7 abitanti, da noi c'è un'impresa ogni 80 abitanti Per creare sviluppo bisogna fare imprese e creare lavoro Nei 72 punti del programma, siccome noi ci ispiriamo alle amministrazioni che hanno fatto bene Ci ispiriamo alle amministrazioni che stanno facendo bene, che curano l'ambiente Che fanno sviluppo e non ci ispiriamo al degrado Per cui sono quelli gli esempi a cui ci ispiriamo Nell'amministrazione De Luca ci sono alcune cose positive che ha fatto E noi ci stiamo ispirando su alcune cose come quelle per esempio Della manutenzione straordinaria alle strade o quelle dell'ambiente Avendo avuto il primo premio in Italia per l'accolto differenziato Altri ci ispireremo ad altre città, altre lo faremo Cioè le cose bisogna inventarle ma bisogna anche vedere quelli che hanno fatto bene Il benchmarking è la prima cosa che noi pensiamo di portare avanti nei prossimi giorni